Ah, ciao ragazzi Come va? Bene? E o male? Si vede che non sono fuori, vero? Bene Allora Sono male Palle Non so sono tutto intasato, non ci sento più A sto orecchio Che dobaglioni Fa pure male la gola Riescono anche a parlare più volte di cose Vabbè Comunque Avete visto Che la Google sta facendo un nuovo Progetto Si chiama Project Glass Un nuovo del genere E sono tipo questi occhiali Che tu vai in giro E ti dicono dove andare, cosa fare Che tempo c'è C'è tipo C'è tipo L'occhialino dei Come cazzo si chiama Non mi viene in mente niente Poi di Dragon Ball E C'è C'è un stile Ti dico tutto quello Che puoi sapere su una cosa E buono Che una tornazione a Barcellona Più o meno Due giorni fa Si lo so Non ho fatto il vlog ieri Ma chi se ne frega E Da su qualche cartolino E Da su qualche cartolino Potremmo trovare Così Ok Che andranno a pesare un muro Di Foto E robe varie Però devo regalarne qualcuna da Andrea Non so quale C'è un po' C'è un po' C'è un po' C'è un po' Bella scelta Penso anch'io Allora dopo gliela porto Secondo me non è funzionato questa cosa Ma non importa Poi Poi Mamma Ho messo un nuovo video sul canale Track English Flow Questa è la pronuncia E Così Potete vedere tutto quello che volete Non è vero Sono due video Tre Uno del dubstep Uno del piatto nuovo Facciamo così Uno del dubstep Uno del piatto nuovo Vaffanculo Che sbocco E che lo tacello Uno del piatto nuovo E E tipo Gli errori Un po' così Le gaffe Si chiamano Gli outtakes Della Del video del dubstep Che ha avuto un grande successo Devo dire Nel senso che molti l'hanno visto successo Ho 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 Sto male Capitemi Eeeh Credo basta Non c'è niente Non c'è niente altro da dire Forse farò vedere il mio Mibon Che sono qualche volta Eeeh Meme Non c'è niente altro Quindi Grazie per avermi ascoltato Per avermi Visto Questo video Questo Grazie Grazie Ah In questi giorni Iniziamo a riprendere Nuove parti Per il nuovo video Che faremo Su Fraganindish Io andrei Ma ho approfittato Delle vacanze di Pasqua Per farlo Quindi Non so se oggi o domani Iniziamo a riprendere qualcosa Si mi sto graddando quelli Eeeh Alleluia Eeeh Eeeh Buone vacanze di Pasqua Anche a voi Grazie Eeeh Mi ha detto Non fatto Eeeh Grazie per avermi ascoltato E visto E guardato E adesso mi piace Raggiunto preferiti E iscritto Al mio canale Questo Eeeh Buia